Radio Doc, Radio Doc, Radio Doc, musica a denominazione d'origine controllata. Chi c'è? Sapete chi c'è? Ma oggi chi c'è? Cucece, tra il serio ed il faceto. Interviste con Antonio Puglisi e Cucece. Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti all'undicesimo appuntamento di Cucece verso le amministrative, l'appuntamento consueto del mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Doc, sia audio che video. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo anche dal nostro profilo Facebook, dalla pagina ufficiale di Radio Doc. Abbiamo la diretta anche nella nostra pagina e naturalmente chi ci sta seguendo anche dal sito radiodoc.tv perché anche in streaming video sarà possibile assistere ed ascoltare a questo confronto, quello che doveva essere un confronto tra i due assessori designati da parte di entrambe le coalizioni, cioè quella che vede candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Capodorlando del 5 giugno, Salvatore Librizi e Franco Ingrillì. Purtroppo non è la prima volta che ci tocca ripetere sempre la stessa storia, cioè che il confronto si tramuta e si trasforma in sintesi in quella che sarà un'intervista a un solo interlocutore. Perché presente qui con noi c'è Gaetano Sanfilippo, assessore designato per il candidato a sindaco Salvatore Librizi. Buon pomeriggio a lei e ai nostri radioascoltatori, ai vostri radioascoltatori. E allora Gaetano Sanfilippo è peraltro stato ospite negli anni di Cuccecè, ogni stagione c'è sempre stato. Eh sì, mai, mai, dico mai titolo di un programma è stato così azzeccato. Cuccecè. Senza ombra di dubbi. A questo punto è sicuro. E allora io direi di partire proprio da questo motivo, cioè dal fatto che c'è soltanto un interlocutore in quello che doveva essere un confronto, perché abbiamo già detto lunedì scorso quando era presente qui Salvatore Librizi, candidato a sindaco, che mancava Franco Ingrillì in quanto, rileggo nuovamente il comunicato stampa che è stato diffuso da Ingrillì relativamente alla mancanza di dibattito e di confronti a seguito dell'ennesima scomposta reazione della coalizione avversaria che continua ad estremizzare il corretto e democratico confronto scadendo nell'offesa personale accusandomi di esercitare pressione nei confronti dei dipendenti comunali ho deciso insieme alle cinque liste che mi sostengono di evitare ulteriori strumentalizzazioni e polemiche lontane dai reali interessi degli orlandini, cioè al fine di permettere loro espressione di un voto basato su progetti concreti veicolati in maniera serena. Riguardo infine la polemica, insomma, ha già risposto e ne abbiamo già parlato. Quindi questo è l'ultimo comunicato stampa in nostro possesso che riguarda la mancata partecipazione ai confronti di Franco Ingrillì degli assessori disegnati e di componenti delle cinque liste però c'è anche da dire una cosa a me piace tantissimo, l'ho anche postato questa mattina sulla mia pagina personale uno spot che sta andando in onda per ora sulle reti Sky che promuove proprio i confronti che ci saranno in questi giorni per le elezioni amministrative di Milano e Roma che naturalmente non è Capodorlando e lo slogan di questo spot che chiude proprio questa promozione è il confronto è un diritto per i cittadini, un dovere per la politica e mi sembra che più chiaro di così non può essere e la domanda è sempre la stessa ma la sono posta lunedì, la ripongo anche adesso ai nostri radioascoltatori perché non partecipare a un confronto anche se ci sono delle divergenze o ci si senta offesi per delle parole espresse dalla parte avversaria è come se si facesse uno smacco a qualcuno in particolare ritengo che lo si faccia a se stessi non partecipando a questo genere di confronti partirei proprio da questa domanda Gaetano Sanfilippo che presentiamo un geometra di 53 anni, sposato e padre di due figlie di 22-18 anni se non vado errato la seconda di quasi 18 quasi 18, consigliere comunale dal 90 al 92 poi assessore nel 1993 era anche assessore dal 2003 al 2005 dopo una pausa di riflessione, definiamola così e di nuovo consigliere comunale dal 2005 ad oggi dal 2006 sempre nei banchi della minoranza della minoranza e allora partiamo proprio da qui il confronto è un diritto per i cittadini un dovere per la politica mi sembra che espressione o slogan più preciso non possa essere detto per spiegare ai nostri radioascoltatori quanto può essere importante un confronto io la penso così esattamente così vorrei puntualizzare il confronto è il sale della democrazia democrazia è il governo del popolo significa ascolto significa rispettare l'elettore chi si sottrae al confronto non è che non rispetta controparte non rispetta gli elettori quella è la cosa più grave cioè chi si sottrae all'esplicitazione delle proprie linee programmatiche dei propri progetti politici di come vuole essere di come dovrà essere l'approccio all'amministrazione il metodo amministrativo ovviamente lo fa in maniera consapevole accampando scuse e cercando di svicolare di sfuggire a quello che è un sano confronto che in democrazia è sempre auspicabile dico questa è la cosa per noi fondamentale anche perché mi sembra di notare che se qualche espressione colorita perché sinceramente ne parleremo della campagna elettorale ma sinceramente ce ne sono state ma mi sembra una delle campagne da una parte e dall'altra una campagna elettorale veramente tranquilla rispetto a quelle vissute negli anni passati poi ne parleremo però mi sembra che ci siano state da entrando le parti allora mi chiedo allora se anche l'altra parte avesse reagito in questa maniera non avremmo mai saputo niente degli candidati a sindaco al consiglio comunale se non partecipando ai comizi ma ripeto i comizi sono più una prerogativa del candidato che vuole incontrare i cittadini li organizza lui quindi ci va direttamente e parla soltanto lui il confronto con i media poi stiamo parlando del 2016 non parliamo degli anni 50 mi sembra una cosa irrinunciabile ecco può essere che insomma queste scaramucce verbali più che altro mi sono sembrate solo verbali possano condizionare così la partecipazione a un confronto ma guardi queste sono scuse scuse saranno probabilmente strategie di qualcuno del competitor come amano dire gli altri io voglio chiamarlo antagonista avversario politico perché veda la politica ha una serie di cose che è una parola che sembra apparentemente vuota poi deve essere riempita di contenuti i contenuti sono i programmi i progetti i metodi come si intendono affrontare e risolvere i problemi e le priorità che si attribuiscono ai singoli problemi di un paese e quindi dico se non si vanno ad esplicitare in un'occasione della campagna elettorale che è il momento topico del confronto con i cittadini allora quando si pensa di farlo quella è una mancanza di rispetto per i cittadini il nostro candidato sindaco io stesso ieri sera in una frazione la popolosa frazione di San Martino ho fatto urlare ai partecipanti vogliamo il confronto viva il confronto cioè proprio per invitare gli altri a scendere in piazza ad avere rispetto per i cittadini e a farsi porre le domande dai cittadini non a soffermarsi sull'abbiamo fatto tutto abbiamo concluso tutto allora mi chiedo se tutto è fatto tutto è concluso perché si dovrebbe votare cioè l'elezione diretta del sindaco a suffragio popolare è un'elezione uno strumento di democrazia che deve essere correttamente utilizzato e per essere correttamente utilizzato deve passare attraverso l'esplicitazione dei propri propositi dei propri progetti dei propri programmi attraverso far capire anche ai cittadini come e soprattutto quando si intendono realizzare quei programmi quando si intendono risolvere quei problemi insoluti risolti che ci vengono segnalati noi abbiamo un programma partecipato che è stato diciamo costruito interloquendo con i cittadini per cui dico gli altri hanno una mera enunciazione di principi all'interno della quale non si comprende benissimo se come e quando dovranno essere risolti taluni problemi come si dice in questi casi parlare di chi non c'è non è mai concentriamoci adesso invece su chi c'è perché voglio dire chi c'è c'è in questo caso c'è presente l'assessore designato e candidato al consiglio comunale Gaetano Sanfilippo nella lista valore pubblico allora io vorrei partire questa conversazione questa intervista in pratica con le emozioni vissute domenica scorsa perché io ho seguito naturalmente entrambi la presentazione che si sono svolte di domenica in piazza Matteotti di entrambi i candidati delle liste e guardando quella di Salvatore Librizi ho notato ho visto un Gaetano Sanfilippo particolarmente emozionato hai ragione perché insomma mi sarei aspettato un intervento diverso ed era ho avuto la sensazione mi scusi se glielo dico che era Lili pronto per partire pronto per partire però poi si è lasciato emozionare presumo dalla platea che insomma si è visto era piuttosto numerosa è stato così quali sono state le sue emozioni per quella domenica ma guarda le mie emozioni sono state tante io non ho mai visto e di campagna elettorale ne ho viste ne ho vissute sia dall'interno che dall'esterno ne ho viste ne ho vissute parecchie è la prima volta che vedo in uno step intermedio quindi non nel comizio di chiusura finale così tanta gente ma tanta gente attenta tanta gente proprio calorosa tanta gente al di là della sottolineatura di circostanza degli applausi o di quelle clac che talvolta capitano anche nei comizi sono un classico sono un classico io dico tanto per usare una metafora radiofonica non c'è stata nessuna musica richiesta con dedica cioè la gente si è recata in piazza spontaneamente si è soffermata in piazza fino all'ultimo ed è stato un intervento lungo e articolato perché presentare quattro liste con l'intervento dei rappresentanti di singola lista con l'intervento con il saluto l'indirizzo di saluto di due designati assessori e con il lungo articolato intervento del candidato a sindaco Salvatore Librizi e ovvio che ha trattenuto oltremodo la gente la gente si è trattenuta si è soffermata ed ha ascoltato con estrema attenzione è stato proprio questo calore questa attenzione a creare in me anche quel sentimento di 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 imbarazzo non lo vorrei definire imbarazzo ma non è che è l'età è probabile è probabile io mi emoziono mi emoziono no 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 ma guardi io sono sempre stato dolce qualcuno dice che io metto sempre avanti la parte peggiore poi salvo scoprire poi che anch'io ho un cuore e chi ha un cuore non può non emozionarsi di fronte a un bagno di folla di quel genere di fronte a un tributo di quel genere di fronte a una presenza fattiva di fronte a una presenza che interagisce di fronte a una presenza che tocchi con mano cioè noi avevamo duemila occhi minimo puntati addosso quattromila occhi quattromila occhi ho letto duemila persone ha ragione noi non moltiplichiamo non andiamo a moltiplicare le presenze come qualcuno magari fa durante le manifestazioni turistiche però siamo sempre moderate ecco l'importante è questo ma anch'io ho avuto una reazione forse un po' un po' eccessiva lei personalmente solo aspettava di confessare anche perché ho sentito che l'ha detto scusate ma a me questa piazza mi sta emozionando così tanto solo aspettava prima di salire sul palco francamente no però veda poi da quell'angolo di visuale quindi dal palco tu capisci comprendi tocchi l'uditorio attento silenzioso perché veda non si sentivano brusii non si sentiva parlottare ad un angolo dall'altro c'era un grande silenzio un silenzio assordante ma un silenzio assordante di un uditorio estremamente attento ad ascoltare le proposte i programmi e le progettualità avete sentito un aumentare delle responsabilità visto quello che ha detto fino adesso cioè che c'era così tanta gente così attenta dove non si sentiva parlare questo vi ha provocato anche una reale concretezza delle responsabilità che adesso avete sulle spalle se doveste naturalmente vincere queste elezioni noi ci siamo candidati per assumerci una responsabilità precisa quella di cambiare metodo per cui dico siamo pronti a governare questo paese dedicando il nostro tempo dedicando la nostra professionalità dedicando la nostra passione a Capodorlando perché Capodorlando lo merita senta ha vissuto anche la campagna elettorale di cinque anni fa sempre accanto a Salvatore Librizi ed è stato anche eletto se non ricordo male è anche uno dei primi il secondo assoluto che differenze sta notando tra quella campagna elettorale e questa campagna elettorale a sostegno di Salvatore Librizi questa è una campagna elettorale nuova vedo un rinnovato entusiasmo vedo 64 uomini e donne al fianco di Salvatore Librizi oltre ai sostenitori ai numerosi sostenitori che supportano questa candidatura questo progetto politico che questo è il progetto politico dei cittadini questa è la sensazione che ho incontrandoli nei singoli interventi che stiamo facendo nelle contrade ne approfitto per dire che alle 19.30 saremo a Bruca nella zona delle case popolari e poi saremo a Villa Renella quindi diciamo noi saremo davanti al cineteatro un po' più un po' più in qua del cineteatro saremo a Villa Renella e quindi ne approfitto perché questo entusiasmo questo interesse è palpabile cioè loro desiderano che questa enunciazione di principi non resti tale desiderano che quello che hanno contribuito a sversare sulla carta non resti tale ma che sia fatto di azioni concrete che si debbono susseguire per dare dignità a Capodorlando e questo lo si tocca lo si sente lo si palpa prima durante e dopo prima degli interventi quando arriviamo dopo durante gli interventi e dopo gli interventi quando la gente si sofferma parla propone mi è venuta quest'altra buona idea questa è una buona idea cioè al di là degli slogan al di là delle cose simpatiche che ogni tanto capita ci si può credere anche sulle buone idee ci si può credere anche sulle buone idee senza altro non ci si può credere quando ci si sottrae proprio al confronto con i cittadini non voglio rinfocolare la polemica ma è una cosa gravissima ci dobbiamo fermare un attimo per dare spazio alla pubblicità prima di dare la linea proprio agli spot volevo proprio chiudere con questa considerazione cioè che è un peccato è veramente un peccato mi sarebbe piaciuto oggi avere qui una controparte per poter discutere anche di questi argomenti di sentire l'opinione altrui mi sarebbe piaciuto anche lunedì scorso quando c'era il previsto il confronto e mi dispiace mi dispiace sia professionalmente al sottoscritto ma principalmente per tutti i nostri radioascoltatori per chi ancora magari non si è fatto un'idea per chi ancora vorrebbe capire purtroppo non è colpa nostra so di provocare una reazione ma l'assenza l'assenza se è maldefinita può diventare inquietante sue parole ne assumo la responsabilità politica va bene perfetto allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità torniamo tra un minuto esatto interviste tra il serio ed il faceto su Radio Doc rieccoci nuovamente insieme salutiamo gli amici di Facebook che sono gli unici privilegiati a poter ascoltare anche il fuori onda durante le pause pubblicitarie però niente di che non diciamo le parolacce non diciamo le parolacce allora continuiamo questo confronto mancato con l'intervista a Gaetano Sanfilippo che è un assessore designato di Salvatore Librizi è candidato al Consiglio Comunale con la lista valore pubblico un'altra domanda che mi viene da farle è relativa a come vi state presentando voi vi state presentando più volte l'ho letto più volte l'ho sentito come una femmini cioè una famiglia ovvio in cosa consiste questa definizione legata alla politica cioè si può associare alla politica il discorso della famiglia perché la politica più che altro per come la intendiamo noi anche a livello amministrativo è la soluzione dei problemi gli incontri cioè gli accordi ma come famiglia come possiamo legarla a queste cose ma la leghiamo senz'altro perché lei sa che la famiglia è il primo nucleo la prima cellula della società e quindi la società poi all'interno di uno stato democratico esplicita la propria azione attraverso la politica e quindi attraverso l'amministrazione per cui dico per analogia l'amministrazione è un gruppo di famiglia all'interno del quale prevalgono i rapporti personali che poi si esplicitano nelle azioni politiche nelle azioni amministrative di tutti i giorni cioè un padre di famiglia il buon padre di famiglia perché il principio costituzionale è quello di amministrare col criterio del buon padre di famiglia allora il buon padre di famiglia amministra bene i propri amministrati i propri familiari quindi il concetto di femmine è un concetto di una coalizione coesa che si basa su rapporti personali forti e che condivide principi e valori pertanto dico l'azione amministrativa è caratterizzata da un rapporto personale che si esplicita attraverso un'azione fatta di principi valori e risoluzione di problemi in famiglia del resto sono i genitori che pensano ai figli in prima istanza poi saranno i figli me lo auguro a pensare ai genitori quando questi saranno anziani questo è il rispetto è il cerchio della vita è quel cerchio della vita che prevede l'attenzione ai padri ai figli agli anziani ai diversamente abili perché tutti indistintamente siamo una risorsa e quindi essere una risorsa significa essere partecipi anche della vita di palazzo significa condividere come dicevo prima principi e valori significa condividere priorità significa anche dare risposte alle aspettative della gente io dicevo tempo fa che lo Stato purtroppo ahimè in questa fase crea aspettative non prospettive le crea in malo modo ci sono devianze da attenuare c'è la disoccupazione ci sono tutta una serie di criticità che nel nostro paese debbono essere risolte debbono essere districate perché non bastano le opere infrastrutturali se poi queste non hanno una ricaduta occupazionale non portano con sé lo sviluppo del turismo se non portano con sé tutta una serie di benefit tutta una serie di ricadute sulla cittadinanza sul comprensorio e tutto quindi la cosa importante il concetto di family per noi è fondamentale dicevo in un intervento pubblico l'altra sera una cosa simpatica utilizzando una battuta perché vediamo che gli altri sono disarticolati cioè gli altri hanno cinque liste ma ce ne è qualcuna ce ne sono alcune che vanno a incontrare i cittadini separatamente quindi ho dato la battuta dicendo che loro sono cinque conne e quattro senza come nel canottaggio noi incontriamo i cittadini insieme tutti insieme siamo una family e quindi trasmettiamo principi e valori in questi incontri alla pari senta ha parlato proprio di valore ecco parliamo della sua lista valore pubblico secondo così le previsioni che anche tra di noi giornalisti facciamo ci mancherebbe altro sembra essere una delle liste più forti insieme alla storica lista orlandina dei suoi avversari politici naturalmente come la definirebbe questa lista perché ci sono nomi importanti di tutti i consiglieri tranne Gaetano Gemellaro uscenti già eletti con Salvatore Librizi quindi la sua presenza quella di Giuseppe Trusso quella di Alessio Micale ma anche New Entry insomma ci sono altri nomi che si stanno ponendo all'attenzione come definirebbe la sua lista la mia lista la definisco una lista ben equilibrata una lista che compendia tre consiglieri comunali uscenti tra cui me che ne sono il capolista qualcuno ha polemizzato dicendo che loro sono in alto in alfabetico probabilmente non aveva letto l'elenco dei candidati delle altre liste ma questo poco e poco importa Nella nostra è una lista ben articolata una lista di 16 nomi di uomini e donne è chiaro che lei sa che i consiglieri comunali che siederanno tra gli scranni del Consiglio Comunale di Palazzo Europa saranno 16 non più 20 quando io ho cominciato a fare politica eravamo 30 per cui questo la dice lunga su quella che è l'evoluzione dinamica dei consigli comunali dell'organo di indirizzo politico e di controllo ed è una lista che compendia esperienze ed entusiasmo in un giusto equilibrio tra uomini e donne giuste professionalità gente che si vuole spendere per questo paese gente che ha a cuore il futuro e le prospettive di questo paese quindi è una lista senz'altro forte ben strutturata una lista all'interno della quale ci sarà una bella competizione ma una sana competizione perché proprio per il concetto che esprimevamo poc'anzi ovvero il concetto di family noi lavoriamo tutti per un ruolo ci sarà chi avrà un ruolo in consiglio comunale all'interno delle istituzioni ci sarà un ruolo quello che io immagino il ruolo di presidio del territorio l'ho detto in un altro intervento io immagino di chiudere gli occhi sul promontorio del capo lei saprà che ci sono in corso finanziate dalla cura i lavori di ristrutturazione della chiesa e quelli che noi come gruppo consigliare abbiamo anche contribuito a finanziare per il prospetto insieme a tanti altri concittadini che hanno a cuore quel nostro elemento identitario dicevo immaginiamo di chiudere gli occhi lì e di riaprirli vedendo tutta una serie di candeline accese tutta una serie di candeline accese per Capodorlando come amo dire io da Zappulla a Santa Carrà dal Bagnasciuga a Certa Ricatutè quindi in questo in questo tutt'uno in questo territorio fatto di centro e di contrade fatto di centro e di contrade che idealmente si tengono per mano e quindi di questi soggetti che anche se non avranno l'opportunità la possibilità di sedere lo potrei non averlo neanch'io perché mi sono sempre sottoposto al giudizio inesorabile dell'elettore del cittadino che con la matita potrà scegliere se fare la differenza fra la continuità e il nuovo ma il nuovo nel metodo il nuovo nel merito il nuovo nell'azione politico-amministrativa e quindi dicevo tutti avranno pari dignità perché tutti saranno posti a presidio saremo posti a presidio della pubblica amministrazione di un progetto politico che si manifesta diversamente si manifesta diversamente perché veda io ho detto è bello dire noi rinunciamo all'indennità noi questo noi quello però siccome non vogliamo dare anche idee sbagliate perché dice rinunciare all'indennità perché hanno altre aspettative no voglio sgombrare il campo anche da questo dubbio è una domanda che avrei voluto voglio sgombrare il campo anche da questo dubbio noi rinunciamo consapevolmente qualcuno mi ha chiesto ma allora la politica diventa la politica dei ricchi no non è così la politica diventa non diventa resta la politica del servizio bisogna ritagliare del tempo agli affetti familiari bisogna ritagliare del tempo alla professione per dedicarlo ai propri concittadini al proprio paese perché questo è il paese dei miei figli dei suoi figli questo è il paese di tutti i figli degli orlandini e di coloro i quali hanno scelto Capodorlando per abitarci e quindi noi abbiamo il dovere di tutelarli abbiamo il dovere di non farli andare via se è possibile abbiamo il dovere di creare nuove e serie opportunità di lavoro qui io ci credo veramente ecco va bene allora lei è stato assessore come abbiamo detto mi sembra se non ricordo male è stato anche assessore ai lavori pubblici sono stato assessore allo sviluppo economico allo sviluppo economico però parlando di lavori pubblici parlando insomma di questa grande struttura che sta per essere realizzata a Capodorando come il porto vorrei sottolineare che noi abbiamo manifestato il nostro consenso mi faccia finire la domanda mi faccia finire voi in un consiglio comunale che secondo me resterà storico per quanto riguarda questa realizzazione dell'opera il consiglio comunale all'unanimità ha espresso parere favolevole su quella che era la convenzione da dover mettere in atto e quindi l'inizio sull'accordo di programma che sversava nel rapporto di convenzione tra il comune e il promotore è una scelta che adesso entrambe le coalizioni naturalmente rivendicano perché comunque il porto bisogna ammettere che è una struttura anzi a proposito vi anticipo che nell'edizione del GR delle 19 ci sarà un'intervista all'assessore regionale Pistorio che ha fatto visita qualche giorno fa ai lavori del porto e lo ha definito proprio un cantiere che dovrebbe essere preso d'esempio per tutta la Sicilia ecco che tipo di utilità proprio reale pratica a parte quella di far ormeggiare delle barche può avere il porto di Capodorlando intendo a carattere occupazionale turistico bisognerebbe forse migliorare anche delle strutture interne che riguardano Capodorlando e allora io le dico subito quello che penso quello che penso è quanto segue il porto è un'opera infrastrutturale storica per Capodorlando io ne sento parlare da quando ero piccolo da quando non ci azzeccavo nulla con la politica per cui dico è un'opera importante fondamentale è il porto delle olie ma non deve essere il parcheggio per le olie ovvero dicevo in un'altra occasione in un altro confronto con i cittadini dicevo che noi ci crediamo nel fatto che il porto possa anzi che debba diventare la rampa di lancio il trampolino di lancio per rilanciare le attività turistiche per rilanciare l'occupazione e noi abbiamo più di 500 posti già sversati in convenzione che dovrebbero venire fuori 552 552 posti che dovrebbero venire dalla convenzione in termini di ricaduto occupazionale immediata poi c'è l'indotto noi dobbiamo l'obbligo di proporre di supportare qui il comune non è un'impresa ma deve supportare le imprese nelle loro azioni quindi negli investimenti supportare l'insediamento di strutture ricettive che possano ospitare tutti i turisti tutti i flussi turistici anche in sede destagionalizzata mi riferisco ovviamente ai mesi di marzo febbraio settembre ottobre lei sa che in questo momento noi abbiamo tutta una serie di criticità che sono date dalla chiusura di tre strutture ricettive che hanno avuto la riconversione una delle quali è stata addirittura riconvertita per fortuna dico io e quindi hanno cessato la propria attività di struttura ricettiva noi dobbiamo segnare una netta inversione di tendenza noi dobbiamo promuoverne l'insediamento con tutti i mezzi che una pubblica amministrazione ha a disposizione ovvero diciamo l'accelerazione dei procedimenti amministrativi per le costruzioni e dobbiamo far sì che negli stessi tempi di definizione dei lavori del porto quindi sia dell'opera infrastrutturale a mare sia di quelle che sono le opere a terra di supporto all'attività tipica del porto al bacino portuale abbiamo il dovere di riallineare l'insediamento di strutture ricettive che possono dare posti letto servizi quindi interagire anche col comprensorio per creare itinerari turistici per creare itinerari che prevedono sì di beneficiare della spiaggia del mare che è il nostro bene primario ma anche di visitare i beni etnoantropologici i beni storici i beni monumentali architettonici che il nostro ampio comprensorio ci offre questo significa per noi creare quella necessaria inversione di tendenza creare le basi necessarie per quelle ricadute occupazionali che veramente possono segnare la storia di Capodorlando qual è il dovere della pubblica amministrazione però le dico è il dovere di vigilare in continuo così come abbiamo fatto come gruppo di opposizione con atti di indirizzo politico che hanno riguardato il feeder per il collegamento al metano quindi oggi i nostri concittadini hanno la possibilità di rivolgersi a qualunque gestore e di risparmiare sul costo del servizio quello di rilanciare un attimo l'interazione tra il pubblico e il privato cioè di promuovere tutte le iniziative necessarie per creare il giusto riequilibrio finanziario anche delle casse comunali qui un passaggio poi se mi consente non so se adesso o più tardi vorrei farlo sulle casse comunali è una domanda prevista quindi aspetti un attimo perché adesso a proposito di consiglio comunale importante e storico come quello del porto ce ne fu un altro più recente anche per me quello lì storico ed è quello legato all'allenazione della Casalbergo per anziani dove invece lì voi vi siete opposti in quel caso questo per capire cosa vorrete fare voi se doveste governare questo paese nel futuro il discorso delle alienazioni in quel caso i soldi recuperati dal comune per la vendita di quella struttura sono stati utilizzati per il completamento del lungomare Andrea Doria in altri casi altri beni alienati sono stati scambiati con le stesse ditte che hanno svolto dei lavori ecco questa apprecia ognuno può avere le sue teorie o le sue idee su questo sistema di governare ma l'allineazione dei beni sarà gestita anche da voi o almeno ne avrete parlato sicuramente anche in questi termini e allora io sono sempre stato critico lei ricorderà non le sarà sfuggito perché è molto attento che già questa battaglia sulle alienazioni cominciò con me e il collega Dario Lipari quando eravamo in opposizione nel mandato amministrativo precedente perché? perché noi temevamo quello che poi è successo che questo meccanismo perverso che dovrebbe essere virtuoso così come discende dalla norma potesse portare a quello che è stato poi questo tipo di risultato ovvero a fare due permute con due strutture una delle quali insomma non è nemmeno completamente nostra perché ancora pende un contenzioso in cambio di lavori che sono stati fatti e commissionati con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti quindi qui c'è già una differenziazione nel metodo tra le due cose vero è che ci sono state sono state fatti degli interventi in cambio delle alienazioni ancora devono essere sottoscritti gli atti di cessione provate ad immaginare che noi abbiamo ceduto in permuta tre beni il primo è quello dell'ex acquedotto dove il comune ha ceduto il bene principale che era sede dell'exeas e mantiene non le sarà sfuggito perché hanno pubblicato l'approvazione del schema di contratto pubblico che il comune conserva un diritto una servitura attiva di accesso ad un serbatoio che è allocato ai piedi del monte della madonna questo è una cosa da sbellicarsi dalle risate cioè se ne sono accorti soltanto adesso dopo che noi la domanda è in relazione al futuro il passato va sottolineato perché noi ci differenziamo nel metodo e quindi è importante che si sappia che noi non abbiamo nessuna intenzione di ricorrere ai beni di famiglia alla loro cessione a qualunque titolo abbiamo piuttosto l'interesse e l'intenzione di valorizzare quelli che ci sono rimasti questo è importante perché lei sa che nelle schede di la nazione erano state ricomprese in un primo momento anche il merendino che poi con un altro mutuo l'ennesimo uno di quelli che fa parte dei 7 milioni e mezzo di mutuo che abbiamo in ammortamento è stato riconvertito quindi è stato prima inserito per poter riequilibrare le criticità di Belagio e poi tolto via anche perché c'era un contenzioso con la provincia per quello è con l'istituto tecnico il contenzioso anche in quel caso queste sono storie però per il futuro noi abbiamo interesse a valorizzare i beni di famiglia abbiamo interesse a metterli a reddito nella maniera migliore possibile abbiamo interesse a ritagliare ove possibile i fitti passivi e quindi a restituire gli spazi fisici necessari rinvenienti dalla pubblica amministrazione e questo è un impegno che io avevo preso già parecchi anni fa io ho diciamo rescisso contratti di locazione che nella ormai famosa prima repubblica erano stati stipulati a macchia d'olio per allocarvi materiale elettorale in un posto in un seminterrato di qualcuno di qualche altro insomma quello era un metodo che noi rifugiamo e quindi se ci diciamo nuovi nel metodo dobbiamo dimostrarlo nei fatti bene noi ci fermiamo ancora una volta soltanto 60 secondi poi saremo di nuovo insieme andremo fino alla fine senza interruzioni ci sono tanti argomenti li anticipo da discutere in questa intervista parleremo di precari naturalmente parleremo e di conseguenza parlando di precari parleremo anche di bilanci parleremo anche di situazione finanziaria del comune e vorrei anche parlare dei giovani perché insomma Gaetano Sanfilippo ogni intervista gli ho sempre fatto quello dei giovani è sempre uscito fuori come discorso ah questa è una mia fissazione tra poco dopo la pubblicità su Radio Doc chi c'è? c'è? c'è tra il serio ed il faceto rieccoci nuovamente in diretta su Radio Doc salutiamo ancora gli amici che ci stanno guardando da Facebook sulla nostra pagina ufficiale di Radio Doc anche coloro che sono sintonizzati sul sito Radio Doc per seguirci in video e naturalmente coloro che ci seguono dalle nostre frequenze siamo con Gaetano Sanfilippo assessore designato di Salvatore Librizi come abbiamo già detto più volte lo ripeto per l'ultima volta naturalmente doveva esserci anche l'altro assessore designato ma come già sapete e più volte ripetuto non è presente andiamo avanti allora c'è stato un incontro ieri organizzato dalle sigle sindacali che tutelano i precari del comune di Capodornando ricordiamo sette mesi senza stipendio una questione che anche con l'attuale sindaco si è un po' tirata forse anche troppo c'è stato un incontro dal perfetto che non ha portato a nessuna soluzione quindi questi lavoratori che sono tanti peraltro rimangono ancora nell'assoluta incertezza hanno organizzato questi due incontri separati con i due candidati a sindaco che premetto secondo me è stata la cosa più intelligente che è stata fatta nel corso di questa campagna elettorale perché sono stati veramente bravi hanno sfruttato il momento più importante di visibilità che può essere una campagna elettorale ma l'hanno fatto con una correttezza imbarazzante senza sfruttarla per uno o per l'altro hanno veramente pensato soltanto al problema che gli interessava cioè quello di il problema delle famiglie delle famiglie cioè di avere gli stipendi che avanzano e soprattutto il futuro quale sarà e hanno posto delle domande ben precise adesso non so se ha già parlato con il suo candidato Salvatore Ribrizi ma ha fatto un comunicato stampa conosco la posizione ovviamente perché noi abbiamo un programma condiviso dove questo argomento è inserito in maniera chiara sia come problema che come soluzione allora per noi intanto vorrei partire con un flash noi come gruppi consigliari abbiamo sollecitato a suo tempo perché siamo stati sempre sensibili a queste problematiche la presidenza del consiglio abbiamo fatto un incontro a suo tempo due incontri uno nella stanza del sindaco l'altro nella sala consigliare la presidenza del consiglio comunale la presidenza del consiglio comunale si si ha ragione fino a Renzi no no fino a Renzi scrivono gli altri a Renzi noi non abbiamo questa confidenza ma al di là delle battute abbiamo fatto due incontri una nella stanza del sindaco una nella stanza del consiglio comunale e per la verità nel secondo incontro si è appalesata in maniera chiara si è appalesata in maniera chiara il tentativo di defilarsi da parte della maggioranza consigliare proprio in maniera chiara hanno costruito una polemica d'arte detto questo giriamo pagina perché io immagino che il 5 e 6 giugno anche Capodorlando scelga di voltare pagine quindi voltiamola noi adesso si vota solo il 5 però si ma il 6 ce lo sfoglio quindi nelle mattinate sapremo chi è il sindaco in diretta dalle 23 su Radio Doc e le dicevo questo quindi noi abbiamo a cuore questo problema perché è un problema delle nostre famiglie un problema di tutte le famiglie di tante famiglie di Capodorlando e ci sta particolarmente a cuore perché senza questi soggetti il comune purtroppo in alcune aree in alcuni settori non potrebbe proprio andare avanti cioè noi abbiamo un parco dipendente che sta quasi arrivando a una settantina con il doppio poco più del doppio di questi precari stabili come li chiamo io a questo punto anziché creare aspettative vogliamo essere concreti noi parliamo di internalizzazione dei servizi parliamo di destinazione del risparmio che sono circa 300 mila euro l'anno per gli esperti da 300 a 350 mila euro ed una razionalizzazione delle spese che può servire a drenare risorse ed indirizzarle verso il pagamento delle giuste aspettanze a partire da quelle arretrate per questi signori dopodiché è chiaro che dobbiamo portare avanti tutta una serie di interazioni con l'amministrazione regionale per capire e comprendere come si possa fare un piano serio di assorbimento quindi non abbiamo manovre elettorale da fare la giunta ha adottato ieri una delibera del fabbisogno triennale guardi c'è solo da sbellicarsi dalle risate anche qui la giunta arriva borderline mette carne sul fuoco proprio adesso in maniera assolutamente intempestiva secondo principi che non rispondono a nessuna delle logiche ideali per poter fare nulla di tutto questo ha fatto due manovre ma al destre la prima è questa la seconda non meno importante non me ne vogliono i destinatari io rispetto chiunque però tanto hanno tirato hanno menato il camperlaia come amo dire io che anche le assunzioni delle categorie protette quindi di dipendenti a tempo indeterminato che sono stati recentemente assunti chiaramente è stata fatta in un periodo quanto meno sospetto questo lo dico assumendomi nella responsabilità politica di quello che sto dicendo ovviamente lei conosce la mia proverbale chiarezza io sono sempre chiaro perché amo dire che i numeri non hanno maiuscole e minuscole quindi mi assumo assolutamente questa responsabilità quindi il discorso per me è importante le risorse umane sono risorse che hanno pari dignità le risorse umane sono risorse umane che vanno rispettate e per noi i dipendenti tutti indistintamente sono un valore aggiunto e vanno rispettati e debbono soprattutto avere rispetto della pubblica amministrazione ma soprattutto dei cittadini senta a proposito di questioni economiche prima voleva fare un accenno qual è la situazione economica del comune di Capodorlando cioè si è parlato tanto in questi cinque anni anche mi ricordo con delle interrogazioni da parte del gruppo di minoranza che lei ha guidato legate proprio ai debiti attivi quelli passivi ai residui ai residui cioè si è stata tanta discussione su questo ma allo stato attuale chi diventerà sindaco a prescindere chi diventerà che comune troverà dal punto di vista economico allora noi abbiamo svolto come ha detto lei un'azione incisiva abbiamo svolto un'azione incisiva di monitoraggio dei residui attivi cioè noi avevamo residui attivi ovvero presunzione di incasso che il comune sono stati cancellati 3 milioni di euro sono già stati cassati e noi abbiamo la presunzione di dire che ne andrebbero cassati altrettanti ma al di là di questo sono fatti tecnici che probabilmente per radio non si riesce a comprendere o io non riesco a spiegare in maniera sufficientemente chiara però la sostanza è quella cioè il comune vanterebbe dei crediti nei confronti dei terzi che non sono più esigibili quindi non sono più riscuotibili e andavano cassati quindi circa 3 milioni di euro li ha cassati e sono stati costretti a cassarli mesi fa a seguito di nostre azioni continue e reiterate di monitoraggio la corte dei conti ha fatto emergere tutta una serie di criticità importanti su quello che è l'andamento del bilancio che virtualmente presenta un attivo di 8 mila euro ma è un attivo fake cioè un attivo drogato un attivo falso 8 mila euro 8 mila 462 se non ricordo male e spicci e centesimi e poi peraltro ci sono tutta un'altra serie di problematiche che non possono essere sottaciute noi abbiamo come dicevo poco anzi 7 milioni e mezzo di mutui in ammortamento per pure quegli ultimi che sono stati fatti per il merendino tenga conto che la Cassa Depositi e Prestiti ci ha declinato un mutuo da 1 milione e 300 mila euro che l'amministrazione aveva sottaciuto anche questa bocciatura io l'ho tirata fuori in maniera eclatante in una seduta di consiglio comunale proprio per sottolineare l'attenzione che noi riserviamo allo stato finanziario dell'ente mi ricordo che suscitò anche una riunione dei capi della maggioranza le aggiungo peraltro che il comune diciamo è stato intimato al comune è stato intimato di restituire 8 milioni di euro circa del fondo di rotazione del lato quindi dei rifiuti in comode errate dico io da 715 mila euro l'anno quindi se a questo ci aggiunge i debiti residuali verso i fornitori il comune ha un gap tra una differenza uno scostamento tra la commissione del lavoro e il pagamento dello stesso di un anno e mezzo circa quindi presumiamo di ereditare sul corrente circa un milione un milione e mezzo di euro di arretrato più tutte le somme da corrispondere per debiti legati al contenzioso legale quindi faccia lei un po' la somma se la matematica non è un'opinione 8 e 7 e 15 insomma andremo intorno a 20 non sarà semplice abbiamo la fortuna di avere un gettito positivo per IMU abbiamo un gettito positivo per messi a costruire diciamo tutto sommato in qualche modo se l'amministrazione si tirerà via dal capo questa campana di vetro sotto la quale Capodorlando è stata costretta per 20 anni riannoderà i percorsi virtuosi di quella buona politica di quelle buone opportunità che vengono dalla comunità europea che vengono dai fondi comunitari io immagino e sarei ottimista mi sento di voler essere ottimista che possiamo anche non mettere più le mani nelle tasche dei cittadini quindi penso peraltro al risparmio che potremmo avere dalla gara d'appalto per lo smaltimento dei rifiuti penso all'ottimizzazione della raccolta differenziata cioè penso ad una razionalizzazione della spesa che potrebbe portare veramente a rilanciare tutto ottimista lo era stato anche sotto questo punto di vista Giuseppe Trusso che è un suo collega candidato e peraltro anche un addetto ai lavori quindi tutto sommato e devo per verità diciamo di cronaca anche che la situazione economica che ha descritto il consigliere Gaetano Sanfilippo riguarda anche tu tantissimi altri comuni del nostro comprensorio non è una cosa che si ma veda mi perdoni se la interrompo qui c'è sempre stata una smodata propensione alla spesa io dico nel momento in cui una famiglia deve scegliere se comprarsi il pane o andare a ballare sceglie di comprare il pane e quindi qui purtroppo pur riconoscendo che determinate iniziative sono state apprezzate quindi sono apprezzabili reiterabili quindi ripetibili è chiaro che bisogna scegliere con correttezza con priorità adeguate e bisogna capire quali sono le vere esigenze del paese qui a Capodorlando il ceto medio è stato quasi annientato e c'è la povertà una povertà che si tocca con mano una povertà che va sostenuta senza commiserazioni ma va sostenuta in maniera serie non abbiamo il tempo se siamo più brevi di parlare di un altro argomento che so che lei ci tiene tanto ne avrei voluto discutere anche con l'altro assessore disegnato invitato ma non venuto quello perché ogni volta che l'ho intervistata mi ha sempre tirato fuori negli anni devo dire la verità il discorso dei giovani sono felice però la mia domanda è l'appello che ha sempre fatto lei negli anni stavolta è stato raccolto stavolta è stato raccolto guardi sono felicissimo che questo entusiasmo da una parte e dall'altra questo bisogna riconoscere da una parte e dall'altra questo entusiasmo stavolta è esploso stavolta è esploso in tutte le manifestazioni io vedo candidati in giro giovani in giro motivati che dicono ma quei vecchi carranchi come San Filippo mandiamoli via buttiamoli fuori cioè sono motivati motivati perché hanno delle buone idee motivati perché si intendono spendere per il paese e finalmente dico finalmente i miei reiterati appelli sono stati accolti io sono felice di questo però devo fare l'avvocato del diavolo in questo caso devo dire che anche cinque anni fa sono stati eletti dei consiglieri comunali giovani tutto sommato alla prima esperienza non mi sembra che poi molti hanno definito questo consiglio comunale non proprio fantastico ma di chi parla di chi alzava la mano senza discutere io mi onoro di avere presieduto un gruppo consigliare un intergruppo lo definisco così perché abbiamo attivato una sinergia anche col collega Gemmellaro che è capogruppo di se stesso ma dico è capogruppo perché è stato l'unico eletto in quella lista dei democratici dico io mi onoro di avere presieduto un intergruppo consigliare al quale ho trasmesso ho tentato di trasmettere le mie esperienze le mie strategie d'aula e devo dire che l'altra sera lo voglio dire dalle frequenze di questa emittente ho sentito parlare in piazza Matteotti di amministrazione cioè lei comprende che questi giovani sono arrivati in consiglio comunale bianchi bianchi con il loro bagaglio personale culturale con il loro affetto per la dimensione politica ma di amministrazione non ne sapevano nulla l'altra sera sono intervenuti in maniera attenta precisa puntuale circostanzialata su temi amministrativi quindi significa che sono maturati e sono maturati sul campo con il controllo dell'azione amministrativa con le proposte che abbiamo fatto all'amministrazione noi abbiamo fatto 74 atti stipettivi abbiamo proposto mozioni abbiamo fatto delle proposte concrete parlando di oltre a quella del metano di cui abbiamo già parlato abbiamo fatto delle proposte che riguardano le strisce blu per la stabilizzazione dei famosi precari abbiamo prodotto tutta una serie di atti amministrativi che sono il nostro fiore all'occhiello allora anche in previsione di quella che potrebbe essere la sua delega non lo so ma andiamo così per intuizione siamo per ottimisti visto se dovesse essere naturalmente eletto con tutto il rispetto per il consenso popolare per i cittadini vista la sua esperienza passata dall'assessore volevo toccare un punto e mi sarebbe piaciuto parlarne anche con l'altro ospite che non c'è purtroppo legato a un problema che si è verificato soprattutto in questo ultimo periodo quello del passaggio a livello di via Cordovena bellissimo allora dire il vero insomma io sto anche lì nelle vicinanze quindi ti interessate sì perché ho acquistato casa nel momento in cui io riuscivo ad andare a mare a piedi da casa mia se dovesse venderla varrebbe di meno comunque io a mare a piedi non ci vado più non ho intenzione di venderla ma devo prendere comunque un mezzo perché non ci posso andare più a piedi ecco poteva essere risolta questa cosa in anticipo poteva essere gestita diversamente come pensate se dovesse essere letti ad amministrare questo paese di risolvere questo problema ma se si può risolvere mi delungherò per 60 secondi ma proprio non di più perché no no 60 secondi guardi mi delungherò per 60 secondi per dirle che il contenzioso che questa amministrazione ha costruito con RFI con le ferrovie è un contenzioso indicibile e costosissimo noi abbiamo speso decine di migliaia di euro inutilmente per contenziosi per inadempimenti per poter farne una questione di principio ottenendo che cosa comunque ottenendo la chiusura del passaggio a livello salvo poi non pensare mai a quello che era la cosa importante ovvero la progettualità dei sottopassi che ora vedo inseriti nel programma del nostro antagonista politico a questo punto sono state portate in aula quattro carte raffazzunate perché in siciliano rende meglio dove ci si chiedeva di dare una delega in bianco la giunta per poter assumere un mutuo da 1 milione 800 mila euro per questi 600 sottopassi tra cui quello di via cordovena noi ci siamo opposti e rifiutati non per il principio ci siamo opposti e rifiutati perché siamo per la chiarezza noi votiamo siamo disponibili a votare anche un indebitamento del comune ulteriore quindi dei cittadini un riflesso negativo sulle tasche dei cittadini siamo disponibili a votarlo se è frutto di una progettualità seria che nell'immediato risolva il problema quindi loro hanno solo speso soldi retito i rapporti con le ferrovie li hanno portati all'esasperazione tant'è che l'adempimento ci è stato imposto da un vice prefetto e c'è stata l'ennesima sceneggiata metropolitana napoletana come si dice in gergo c'è stata l'ennesima sceneggiata coreografica quel giorno e questo mi dispiace moltissimo perché mortifica la dignità di tutti i cittadini di Capodorlando di quella zona in particolare noi siccome non vogliamo mortificare nessuno assumiamo l'impegno ribadiamo l'impegno a riannodare i rapporti di civile collaborazione con RFI e ci porteremo avanti con i progetti esecutivi perché io ho anche esperienze maturate in sede professionale nei comuni viciniori e quindi se si interagisce le ferrovie propongono soluzioni e cercano di agevolare i percorsi tecnici e amministrativi finalizzati alla risoluzione dei problemi questo è il nostro approccio alla buona amministrazione questo è il nostro nuovo metodo che non abbiamo scoperto l'acqua calda ma siamo delle persone prestate alla politica ma concrete nella vita concrete nella professione e vogliamo essere concrete nell'amministrazione chiudiamo chiudiamo adesso l'ultimo intervento di Gheadano Sanfilippo legato all'appello all'appello finale questo è probabilmente l'ultima volta in questa campagna elettorale naturalmente che parleremo se non vado errato dovrebbe essere così proprio di Capodorlando quindi è sicuramente l'ultimo appello che si potrà fare in vista delle elezioni amministrative ricordo ancora a tutti che si voterà soltanto il giorno 5 giugno dalle 7 alle 23 dalle 23 in poi cominceranno le operazioni di scrutinio e noi andremo in diretta con collegamenti non soltanto da Capodorlando e vi anticipo da entrambe le sedi elettorali dei due candidati a sindaco avremo dei corrispondenti che ci aggiorneranno minuto per minuto di quello che sta accadendo e che accadrà giorno 5 sera tarda sera purtroppo notte ma ci collegheremo anche con tutti gli altri comuni dove si andrà a votare lo abbiamo già fatto nel corso di Cuccec quindi ci occuperemo di altri allora Gaetano Sanfilippo in chiusura l'appello del perché bisognerebbe votare Salvatore Librizi e quindi farla diventare in questo caso assessore votare per Salvatore Librizi sindaco di Capodorlando dare il proprio contributo dare la propria fiducia a questo nuovo metodo a questo nuovo modo di amministrare a questo approccio di servizio per rilanciare Capodorlando al centro del comprensorio dei nebri e dei non soltanto significa avere a cuore l'interesse del paese io chiudo dicendo che fidarsi e affidarsi e con l'accento ovviamente per riaffermare un principio fidarsi e affidarsi significa affidatevi alla correttezza all'onestà intellettuale alla professionalità allo spirito di sacrificio allo spirito di dedizione di questa squadra fatta di uomini e donne che si propongono per servire il paese in maniera disinteressata e per tentare di rilanciare l'occupazione il turismo portare qui quelle risorse necessarie a restituire la dignità perduta a questo paese grazie a Gaetano Sanfilippo grazie a tutti voi per averci seguito l'appuntamento al momento è rinviato per mercoledì prossimo e poi naturalmente per domenica sera a partire sempre dalle 23 in diretta con tutti i nostri corrispondenti con tutta la redazione di 98.0 e di Radio Doc disponibile per un appuntamento che si potrerà sino a tarda notte naturalmente cercheremo di arrivare sino a quando sarà possibile poter dire e annunciare chi sarà il nuovo sindaco nei vari comuni dove si andrà al voto probabilmente lo faremo nei comuni più piccoli in anticipo Capodorlando anche rispetto a Patti secondo me in anticipo perché a Patti la situazione è decisamente diversa grazie a tutti voi grazie anche alla nostra redazione grazie a chi ci ha seguito sia tramite Facebook che sul nostro sito in video e anche dalle nostre frequenze grazie ancora a Marco Gentile e a Gaetano San Filippo grazie a voi conoscere sapere ridere su Radio Doc tra il serio ed il faceto Radio Doc Radio Doc Radio Doc musica a denominazione d'origine controllata Doc Radio